Ok, siamo a porto, attenzione ai piloti, attenzione, 3, 2, 1, via! Eccolo qui, il pilero per quanto riguarda il circuito di città, per quanto riguarda il circuito di delta, si stanno scontrando che il primo e il secondo volto, insegnamento, attenzione allo e dell'uso, attenzione attenzione ai piloti, attenzione ai piloti attenzione ai piloti. Dokurועkriminola Grazie.